Ogni volta è così, si intitola così, questo brano musicale proposto da Emma Marrone, la cantante salentina per eccellenza, quindi pugliese, al festival di Sanremo 2022. Torna a Sanremo, brilla come una luce di piena bellezza, Emma lo fa fulgorando tutti con un brano che ha per titolo Ogni volta è così. Quindi interpretiamo il brano in questione, il titolo già ci dice un po' tutto, Ogni volta è così, così deve andare, ogni volta va a finire come va a finire. Non ci sono novità nel campo della musica, non ci sono novità, non ci sono segni di svolta, eppure la canzone in questione forse va a dimostrarci questo, va a tradurci in maniera completa, totale e assolutamente realistica quello che è la vita, quello che è il percorso interbiografico barra biologico che effettivamente parlando abbiamo. Forse è una canzone, mi permetto di dirlo, pessimista, che probabilmente va a vedere del pessimismo puro, completo e totale in quelle che sono le realtà pure che la vita ha e o meglio mette davanti a noi. Non aggiungo altro, questa è la mia personale interpretazione del brano in questione, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, ciao a tutti e una buona sera.